Prosegue la visita di re Carlo III in Germania. Il primo giorno del suo viaggio, che durerà tre giorni e mira a migliorare le relazioni tra il Regno Unito e la potenza europea dopo il raffreddamento dovuto alla Brexit, si è concluso con un banchetto di Stato a Berlino, dove il re britannico e la moglie Camilla sono stati accolti con calore. Il primo del Stato del United States del Reino, dell'Unione Europea, oggi, fino a 6 anni dopo, scopo un nuovo capitolo. Iniziamo a scopo di cambiamenti e comunque sulciata all'inizio. Questo viaggio è pieno di prime volte, non solo la visita in Germania, la prima come monarca in un paese estero, ma Carlo sarà il primo re britannico a parlare al Bundestag, dove incontrerà il cancelliere Olaf Scholz e il primo a deporre una corona di fiori alle vittime tedesche dei raid aerei alleati della Seconda Guerra Mondiale.